Momento molto difficile per Luca Argentero. Solo oggi esce allo scoperto il timore provato per quella subdola patologia che lo ha colpito. Fin dagli esordi e dalle prime apparizioni televisive, Luca Argentero ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e indiscusso fascino. Un esempio chiaro di ciò è come la sua vita sia cambiata grazie al grande fratello. Il reality show ha rappresentato il trampolino di lancio per numerosi progetti televisivi e cinematografici, rendendo Argentero in breve tempo uno degli attori italiani più apprezzati, anche all'estero. Negli anni, la sua carriera ha continuato a brillare, fino all'arrivo di Doc Nelle Tue Mani, una serie che ha permesso di consolidare il suo talento attoriale, lasciando un'impronta indelebile in casa Rai e oltre. La serie è infatti trasmessa su Disney Plus e in diversi paesi come Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Austria e oltreoceano, in Canada, America Latina e Giappone. Tuttavia, nelle ultime ore, il mondo del web è stato scosso da una notizia riguardante proprio Luca Argentero e il suo stato di salute. Una rivelazione che ha sorpreso tutti. Ecco di cosa si tratta. Shock per Luca Argentero. Scoperta una sudola malattia. Nonostante il successo ottenuto negli anni, Luca Argentero ha sempre mostrato grande discrezione nel tutelare la sua vita privata e quella della sua famiglia, costruita insieme a Cristina Marino. Questa riservatezza è aumentata dopo la nascita dei loro figli, Nina Speranza e Noè Roberto. Proprio per questo, la notizia diffusa di recente ha colto di sorpresa i fan. A rompere il silenzio è stata la moglie di Argentero, Cristina Marino, che ha parlato di una scoperta scioccante avvenuta durante le riprese di Celebrity Antid Caccia all'Uomo, programma al quale hanno partecipato insieme. Profondamente preoccupato, il portale tag24.it ha riportato le dichiarazioni in merito a una malattia che ha colpito l'attore mentre era in fuga con la moglie. Improvvisamente, qualcosa è cambiato, impedendogli di muoversi con la stessa libertà di sempre. Cosa sia accaduto esattamente a Luca Argentero rimane ancora un mistero. L'unica cosa certa è la preoccupazione che entrambi gli attori hanno vissuto, gestendo la situazione lontano dalle telecamere. Cristina Marino ha commentato così l'accaduto. Luca ha affrontato un serio problema di salute legato alla schiena. Ha iniziato a sentire dolore e a zoppicare. Vedere il mio compagno così sofferente mi ha preoccupato seriamente.